Nora e il lavoro intraspecifico. Hanno acquirato lavoro insieme alla mia Alba e ho occultato le tartufie a terra e vediamo che Alba si mette immediatamente in modalità di lavoro. Allora Nora ha l'impressione che mi dà che è consapevole di quello che stiamo facendo ma chiaramente destabilizzata dalla presenza di un altro cane. Adesso si sta per attivare però non mi dà l'impressione di essere ancora concentrata e consapevole. Consapevole sì ma non riesce ad attivare. Avete visto che adesso è passata Alba e si è bloccata immediatamente e mi ha guardato. Questo mi fa pensare che ho avuto qualche esperienza negativa con altri cani. Comunque Alba è tranquillissima, è concentrata solo e soltanto sul lavoro che stiamo svolgendo e continuo ad interagire con essa lasciando a Nora i tempi di recupero. Vedo che sta ritornando sulle buche. Quindi la strada probabilmente è quella giusta. Non è ancora serena. Ce ne accorgiamo da come si guarda intorno. Se la riflettiamo si guarda sempre e sembra un po' guardinga. E come abbiamo detto sempre ci vuole pazienza. Qui la vado a rincentivare con un tartufo a vista che Alba riprende e mi riporta. Cerco di rassenerarla un po'. La chiagnolina è chiaramente agitata. Agitata pur sapendo che di me di Alba si può fidare. Quindi è una cosa sulla quale va a lavorare. Immaginate se questa cosa su una tartufaia dove dei cani tutor, dei cani esperti si sono messi a capare, avessero in qualche maniera, avesse dato un trasferno emozionale dal proprietario. Quindi va insistiti, si va a insistire su...